La comunità di San Patrignano e mi sono sentita veramente accolta come in una grande famiglia e in un grande abbraccio, questo è vero, quindi per me ha un valore inimmaginabile oggi dal punto di vista emozionale, quindi sono solo felice di questa cosa, veramente grazie. San Patrignano è un modello di business sociale che può diventare un modello unico nel mondo ma è un modello di business internazionale, i ragazzi che vivono qua da più di 30 anni possono insegnare come si fa a fare da una struttura sociale un modello di business eccellente di alta qualità. Il premio è stato una grande sorpresa, una grande emozione davvero, ogni volta è un piacere incontrare tutti questi ragazzi ed è un'emozione vedere il sorriso nei loro occhi, quindi aiutarli con un qualsiasi gesto, il gesto che abbiamo fatto noi è un gesto molto semplice, abbiamo solamente sfruttato io e le mie colleghe produttrici, le nostre amicizie nell'ambito inogastronomico e quindi abbiamo cercato di dare un'opportunità a questi ragazzi e siamo molto contenti di averlo fatto e quest'anno lo rifaremo sicuramente. Simona Natale per Gianfranco Fino Viticoltore, oggi ha ricevuto il riconoscimento abbraccio dalla comunità, che senso ha questo premio per lei? Sono arrivata qui praticamente quasi dieci anni fa la prima volta, sono arrivata per una manifestazione che si chiamava Squisito, mi avete rubato il cuore e quindi per me l'abbraccio è tutto quello che voi sapete dare a me, è tutto il senso di un qualcosa che nasce qui dentro e si propaga come un'onda meravigliosa nel mondo, perché voi avete dei riflessi che di voi si parla nel mondo intero. Secondo me l'eccellenza di San Patriniano ha tante sfaccettature, sicuramente il mondo del vino è quella che ha dato più luce, più immediatezza a San Patriniano, però ci sono tanti formaggi, ci sono il vino, ci sono i vostri mobili, le vostre opere meravigliose, voi siete eccellenza pura e questo noi ve lo riconosciamo ovunque.